A chi piacciono? A uno che riconosce, due, due, tre, ha giudicato quattro Un altro se no non si fa Un uomo ottenuto bene, mi dò una lupo Che offre di più, prego vada, che vi pioggia al vicino Beh, l'abbiamo rivisitata un po' Oh Paolo! Un po' così Bravo, bravo Grazie, grazie 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 a tutti 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 Grazie per la visione!